seguimi su instagram per restare sempre aggiornato ehi tu sei nuovo bene iscriviti al canale attiva la campanellina e goditi i video vorrei però registrare nuovi video da un botto che non ci porto niente però non ho idea cioè boh bisogna andare a vedere nei commenti perché tanto comunque se non mi sbaglio c'erano dei video che mi hanno richiesto vediamo un po vediamo un po e ciao bellissimo video ma con cos'è editi o bel video ma con cos'è editi ciao ire con cos'è editi i tuoi video ciao ire resti un video su come editare video qualcosa mi dice che vogliono un video su come edito i miei video e la bella gente benvenuti in questo nuovissimo video io sono Irene e oggi ragazzi ci troviamo nel primo video del 2019 quest'oggi ragazzi vi mostrerò come edito i miei video perché è un argomento che mi avete richiesto in tantissimi sotto i video precedenti e quindi onde evitare di ripetere sempre le stesse cose e dirvi edito con questo programma faccio queste cose qui ho preferito realizzare un video e quindi ragazzi questo sarà il video di come edito i miei video almeno per la versione 2018 slash 2019 ovviamente quando cambierò modo di editare eccetera farò una versione aggiornata del video in modo che possiate rimanere sempre aggiornati sul mio modo di editing quindi ragazzi prima di iniziare il video ovviamente vi lascio il mio pollice su commentare e iscrivervi al canale se ancora avete fatto e tra l'altro seguitemi su instagram perché è molto molto importante così rimarrete sempre aggiornati sui contenuti che pubblico e su quello che faccio in generale anche quando non registro e niente io direi di iniziare ci trasferiamo fra 3 2 ok eccoci qua sul mio desktop scusatemi se in questo momento è un po' incasinato però ho fatto dei banner ho registrato le video editato quindi è un attimo un casino però di solito è molto più ordinato comunque si è il programma che uso per editare i miei video è Sony Vegas Pro 15 è un programma a pagamento e niente lo apriamo e iniziamo a vedere tutto ciò che utilizzo io per editare i miei video tra l'altro se siete curiosi di sapere con cosa registro eccetera trovate tutte le info qua sotto in descrizione mi raccomando leggete sempre la descrizione perché è molto importante e ci sono un sacco di informazioni utili tra i quali anche i miei profili social eccetera eccetera ok eccoci qua sulla schermata di Sony Vegas questo è come si presenterà il programma all'avvio e niente ho già impostato tutte le varie cose ci sono un paio di cose che dovete settare ma quelle le dovete fare in base alle vostre esigenze io in questo caso vi faccio vedere le proprietà del mio progetto ovvero come edito io basta andare su properties dove sta scritto file appunto e qua sono le proprietà del mio progetto ovvero tutti i miei settaggi quelli che uso io durante l'editing e per quanto riguarda il rendering adesso andiamo a cliccare qua sopra import media e andiamo ad importare le clip che appunto dobbiamo andare ad editare in questo caso prendo delle clip a caso perché non ho nulla di registrato che posso farvi vedere ok per esempio possiamo prendere la intro di prima quella che avete visto prima importiamo questa e ok di solito importo prima tutti i video quindi tutte le clip che ho registrato dopodiché importo vado di nuovo su video perché ho delle cartelle tipo questo dove ho tutti gli effetti in green screen tutte le varie cose che uso per fare le transizioni per mettere magari non lo so instagram in sopra impressione e cose del genere quindi vado qua e di solito importo questi tre file questo è quello di instagram e anche questo dipende poi dal tipo di video che devo fare per utilizzarli o meno una volta importati questi qua vado di nuovo di qua e in green screen vedo se mi serve un titolo ho questi qua che compaiono e li posso inserire in questo caso non mi serve un titolo e quindi vado in transizioni perché qua ci sono tutte le varie transizioni che ho e ne scelgo una a caso e la uso durante tutto il video per esempio adesso prendiamo transizione 4 poi una volta fatto ciò ritorno sulla sezione video perché ho altre cartelle in questo caso vado a prendere la mia intro che è questa qua e il pulsante iscriviti quel tipo messaggio che appare all'inizio video importo anche questi ed eccoci qua di solito la musica non la importo subito ma la importo dopo aver iniziato ad editare il video perché è l'ultima cosa che metto allora inizio sempre mettendo il l'avviso di iscriversi al canale quindi in questo caso non portiamo e lo mettiamo qua sulla timeline una volta fatto ciò ingrandiamo la timeline in modo che ci siano 10 secondi 19 29 e così via in modo da poter editare in modo molto più preciso la nostra clip una volta fatto ciò iniziamo a prendere le varie transazioni mettiamo la prima transazione qua ovviamente sopra la clip e come vedete si vedrà in questo modo ovvero il verde a noi non interessa il verde ma ci interessa solamente la parte bianca quindi per fare per togliere il verde che cosa dobbiamo andare a fare dobbiamo andare su video fx ovvero gli effetti video e andare nella sezione chroma cure andare sul effetto green screen oppure pure 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 green screen non so di preciso come si pronunci ma va bene e importiamolo sulla clip basta trascinarlo e metterlo sulla clip che ci serve dopodiché alziamo qua e mettiamo a mille perfetto una volta fatto ciò come vedete verrà così la transizione come vedete questa è la transizione una volta finita la transizione qua in questo momento deve partire il nostro secondo video la nostra seconda clip in questo caso che nel mio caso è di solito la intro quindi ari tagliamo le parti dove la transizione ancora non sta comparendo in modo da non avere un file sopra troppo lungo ok e facciamo una cosa del genere in teoria dovrebbe andare bene così che abbiamo messo la intro qua vediamo un po come viene ok la transizione e come vedete si passa la intro con tutta la musica in sottofondo eccetera e adesso però disattivato l'audio perché altrimenti è un casino una volta fatto ciò faccio copia e incolla di nuovo qua per mettere l'altra transizione e di solito poi inizio con la mia vera e propria clip ok eccola qua la clip ovviamente faccio vari tagli io uso questo segno così quando faccio così è perché sto iniziando il video quindi ogni volta che faccio così so che devo tagliare in quel preciso punto per poi iniziare a tagliare le varie parti dove magari mi impappino oppure ripeto le stesse cose eccetera eccetera per tagliare come si fa ci sono due metodi o usate i tasti di scelta rapida che dovete impostare voi o comunque ce ne sono già impostati però meglio che li impostiate voi oppure potete utilizzare gli strumenti qua sotto per esempio split in questo caso io ce l'ho impostato su s quindi mi basta cliccare s sulla tastiera e come vedete si taglia oppure potete cliccare appunto qua e farà la stessa cosa dove eccolo qui split e ha tagliato di nuovo come avete visto e questi niente sono i vari pulsanti che vi serviranno per editare il vostro video in questo caso appunto come vi ho detto vi conviene mettervi le scorciatoie da tastiera che non vi farò vedere come si fa in questo video ma se cercate trovate innumerevoli tutorial su youtube una volta fatto ciò per esempio questo pezzo è il pezzo dove mi impappino ho tagliato entrambe le parti quindi premo a per cancellarlo e come vedete ho cancellato quel pezzo e ho unito di nuovo le due clip in modo che non rimanga un buco nero nel mezzo poi per esempio non so vogliamo fare un piccolo zoom mettiamo video fx andiamo giù a tutto e mettiamo per esempio questo qua dov'è smart zoom ok clicchiamo sopra e come vedete adesso si ingrandirà la nostra clip qua impostiamo quanto vogliamo zoomarlo ci conviene modificare solo quel numero per esempio adesso metto 200 ok e come vedete questa clip è un po più zoomata rispetto a questa così e così con lo zoom ed è un effetto molto carino soprattutto quando vogliamo attirare l'attenzione su quello che stiamo dicendo e secondo me è un effetto molto utile che appunto può servire molto poi vabbè dopo aver editato tutto il video quindi aver fatto vari tagli eccetera importo tutti i vari screen per esempio il bottone scriviti che compare il bottone di instagram che compare il bottone dei like che compare tutto il resto quindi andiamolo a fare facciamo finta di avere editato tutto il video averlo tagliato eccetera ok tagliamo la clip in più che non ci serve importiamo anche questa dei like e adesso sistemiamoli andiamo su video event punt crop che ci serve per rimpicciolire le clip in questo caso rimpiccioliamo e lo mettiamo in alto a sinistra ok e come vedete c'è ancora il green screen ma quello lo andiamo a togliere dopo con l'effetto che vi ho fatto vedere prima e facciamo la stessa cosa anche per il pulsante dei like rimpiccioliamo anche questo e lo andiamo a posizionare dove più ci piace in questo caso lo metto qui non fate caso a come è rimpicciolito di più rispetto al subscribe però comunque è un video di prova e solo per farvi vedere quindi andiamo su video fx e andiamo su chroma keyer di nuovo andiamo di nuovo a selezionare il nostro affetto green screen e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima mille e mille anche di qua perfetto così una volta fatto ciò durante il nostro video si vedranno questi effetti come vedete ci sarà l'animazione del subscribe button che comparirà e l'animazione del like button che comparirà in questo caso del like button c'è anche il rumorino che fa tick mentre del subscribe button no ma quelli sono dettagli una volta importati anche il green screen a volte io faccio degli effetti tipo quando faccio dei fail c'è una parte in bianco e nero dove appare anche il recording quindi andiamo a tagliare per esempio facciamo finta che qua io abbia fatto un fail ritorniamo su video fx e mettiamo black and white per fare appunto l'effetto bianco e nero lo trasciniamo sulla nostra clip e come vedete la preview del video si vedrà in bianco e nero perfetto ritorniamo sul project media importiamo il recording che anche questo è un green screen e dopo averlo messo sopra la nostra clip per la durata appunto della clip perché altrimenti durerà per tutto il video andiamo di nuovo su video fx e andiamo su chroma gear ok inoltre la stessa cosa di prima facciamo così e come vedete questo è un semplicissimo video che appunto potrei aver registrato vediamocelo insieme le varie transizioni tra la intro e quello che viene prima della intro insomma ok la intro al video finito ok adesso non fateci caso ovviamente al fatto che si blocca perché sto anche registrando ed eccoci qua i green screen che partono è tutto a posto ovviamente in sottofondo ci sarà anche la musica adesso vi faccio vedere come la metto di solito ok ed ecco qua la parte in bianco e nero che io ho fatto un fail poi ovviamente dopo ritorna di nuovo normale perché voi avete tagliato il perso in bianco e nero quindi non sarà tutto il resto del video in bianco e nero e ritorna di nuovo come questa parte qui bene una volta fatto ciò andiamo ad importare l'ultima cosa che ci manca ovvero la musica andiamo di nuovo su import media andiamo a selezionare la nostra cartella della musica ovviamente come musica dovete prendere delle musiche no copyright altrimenti vi danno il copyright e per esempio facciamo finta che io voglio inserire questa inseriamo questa ok la prendiamo e la trasciniamo sotto il video per esempio io voglio che inizi qua dove sto parlando quindi la metto là e vedo dove inizia precisamente la canzone in questo caso inizia qua giù quindi taglio la parte prima che non ci interessa e la metto a filo a filo una volta fatto ciò devo ovviamente diminuire il volume della canzone perché altrimenti andrà a coprire la mia voce fate diverse prove per esempio io di solito la metto sempre o al 26 meno 26 db oppure a meno 32 db perché così è molto bassa per esempio meno 32,4 db decibel sarebbero una volta fatto ciò si sentirà così il video adesso vi faccio una piccola anteprima così appunto potete sentire come viene alziamo tutti i volumi ok e vi fate un'idea di quello che appunto esce fuori iscriviti al canale attiva la campanellina e e la bella gente benvenuti in questo nuovissimo video io sono Irene e oggi ragazzi ci troviamo nel primo video del 2019 quest'oggi ragazzi vi mostrerò come edito i miei video perché ok niente ragazzi è anche cresciato Sony Vegas mentre vi mostravo l'anteprima comunque sia questi sono i passaggi fondamentali che faccio io per editare i miei video ovviamente se avete un buon video di partenza è molto più facile editare poiché vi richiederà meno tempo se invece avete un video con molti fail molti problemi magari di gente che passa che dovete eliminare eccetera ci metterete un po' più di tempo però comunque non dovrebbe essere un grosso problema l'importante ovviamente è avere un ordine cronologico delle clip e non metterle a casaccio e che la musica se mettete la musica in sottofondo non copra la vostra voce che la vostra voce si senta e cose del genere quindi mi raccomando prima di iniziare a registrare un video state attenti a ciò che fate a ciò che muovete eccetera e niente una volta del video vi basterà fare doppio clic e si selezionerà tutta la timeline quindi sarà selezionata tutta di blu una volta fatto ciò dovrete andare su file in alto a sinistra e andare sulla voce render as e nella voce render as vi appariranno un sacco scritte a voi però non interessa vi basterà andare nella sezione internet o nella sezione sony avc mvc e selezionate la risoluzione che più vi piace quindi per esempio io seleziono 1920x1080 una volta fatto ciò cliccate su ok e vi inserirà il rendering del video una volta che il rendering sarà finito vi apparirà il messaggio di sony vegas e potrete vedere il vostro video concluso ebbene questo era il primo video su come edito i miei video se vi piace questa tipologia di video e magari volete vedere anche quella su come faccio le miniature o magari altre cose interessanti di quello che faccio io per fare i miei video fatemi sapere qua sotto nei commenti intanto io vi rinnovo l'invito a seguirmi su instagram che trovate qua sotto nella descrizione o comunque al nome che trovate qua in sovraimpressione e niente io spero che questo video vi sia piaciuto se è così stato mi lasciate un bel pollicione su commentare iscrivetevi al canale se ancora non è fatto e noi ci vediamo nei prossimi video nei prossimi giorni bella